amici di max devil benvenuti oggi al quartier generale max devil abbiamo esagerato ci siamo portati a casa la nuova hurricane la macchina digitale che personalizza le nostre magliette una tecnologia nuova innovativa ma cosa dico super strabiliante guardate la stiamo montando è un plotter gigantesco che messo all'interno dei nostri stabilimenti produrrà dei patch e poi lo vedrete per realizzare le magliette dei nostri artisti più famosi ma il montaggio della macchina è stato veramente eccezionale io danny jan e l'alice eravamo una squadra vincente l'abbiamo montata smontata rimontata poi è arrivato gastone gastone ci ha insegnato ad utilizzarla e qua la vedete bella montata performante sta stampando a cannone vedete come arrivano i nostri patch sulla carta siliconata pazzesco e io che sto approntando sulla macchina da stampa i patch che vengono applicati sulle magliette rosso verde giallo rosa finalmente in produzione guardate che spettacolo e da qui in poi è semplicissimo un taglio e via la maglietta finita max devil c'è